Dov'è, dov'è l'hacker? Dov'è l'hacker? Ehi, ce n'è pure uno verde Ho bisogno di smeraldi Datemi tanti smeraldi Aspetta che non ci sta il ponte Ah no, è possibile E' morto lo Steve che l'ha fatto, attento Eccoli il verde, eccoli il verde Levati, ma è scemo questo Vabbè, un blocco non ci sta Ok Attento al verde hacker Ehi, il letto dei verdi già sono stati distrutti Quindi, va bene, va bene Mi faccio una bella armatura Ok Il se lo dobbiamo sconfiggere in due perché All'ottano non è forte Però ti colpisce da 48 miliardi di metri, quindi Oh, ci hanno distrutto il letto Bene, perfetto Guardalo, guardalo in verde come vola Guardate ragazzi, guardate, guardate Eccolo lì, guardate, guardate, maledetto Ma perché? Questa che è? È la lobby degli hacker È pure morto Ma che fa? Vola e poi si auto elimina Forse gli si sono disattivate le cose Però ora come facciamo a lottare contro l'hacker? Guardate, è pure il rosso È appunto un hacker Mamma mia ragazzi Io te lo, no, questo No, guardalo, guarda Io sono morto Guarda, lottaci e guarda Chi è? Ecco, ecco, guarda Mi fa proprio volare tranquillamente Proprio Niente Izzo, sto mettendo pure il legno Un botto di cose Sì, c'è che ti sto vedendo Ottimo Bravo, bravo, bravissimo Ma ci sta un giallo Attento il giallo Ma l'hai detto Izzo Il giallo È il giallo Sto qui, dove va? Dove pensa di andare? Vedi? Non ha nessun problema Sì, ma comunque usa autoclicker Malavisto Oh, i rossi Gianno perso il letto Attenzione ragazzi I rossi stanno finendo Sono rimasti in due In due Bene, perfetto Izzo, dobbiamo rompere il giallo Il letto di gialli Va bene, sciarca Allora Perché questo usa autoclicker Aspetta che mi faccio l'armatura E possiamo andare Ok Dove sei? Ecco, di qua Bene, perfetto Anzi, mi faccio anche una bella fireball Rosso da noi Rosso da noi Dov'è rosso? Eh, sta avvenendo I gialli hanno una protezione tutellana Dove? Andiamo dai gialli, allora Andiamo dai gialli Eh, però sono tosti Ecco perché la fanno Dove sei shark? Dobbiamo fare squadra Dobbiamo fare squadra Dove sei? Sì, vabbè Dimmi che questi non sono autoclicker Davvero mi meraviglio Tutti e tre, eh Ma i gialli? Eh certo Manco solo uno Allora L'obiettivo è quello di distruggerli il letto Andiamo insieme Se riesco a... Maledetto, maledetto Vieni qua, vieni Però scappi, eh Scappi, eh Eh, secondo me qualcuno deve rimanere a base Attenzione dietro Ti uccido col piccone, cavolo Guarda, stanno in due, stanno in due Tutti alla base Tutti alla base Ok, uno l'ho mandato di sotto Ok, ecco Questo è il più forte Attento che questo è il più forte Dov'è? Dov'è? Dov'è andato? Mi servono blocchi Mi servono blocchi Ah sì, vabbè Vabbè Questo comunque ha us... Attento Questo usa autoclicker palese Maledetto Lo faccio usare io autoclicker Maledetto C'è, 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 c'è Oh, ma ci sono tre secondi A tutti, a tutti Guardalo Vediamo, vediamo Ma sbaglio si muove troppo veloce Eh sì, in effetti Guardalo Guardalo Sbaglio un hacker Ecco, questo ti dicevo che era un hacker Però pure quel giallo mica c'è e niente Il giallo non c'è più Sono rimasti due gialli che stanno rompendo Punto, l'abbiamo uccide tutti gialli, quello Però sicuro loro ora si camperano Quindi è un problema Magari dobbiamo prendere un botto di Fireball e sbatterglielo in faccia al momento giusto Esatto, Shark Infatti, quello è il mio obiettivo Magari mentre passano nei ponti Bisogna buttarli giù di sotto Ecco Io sto contro quello più forte Guardate, guardate, guardate Sì, vabbè Ma è impossibile giocare così Cioè, ma è boh Comunque è un giallo impossibile da uccide Cioè, è tipo invincibile Ma è un hacker Cioè, non usa solo autoclicker È proprio un hacker, si muove troppo veloce Fallo venire qui, fallo venire qui Che io l'aspetto Dov'è, dove, dove, dove sei? Giallo, giallo Ehi Dobbiamo almeno uccidere l'altro giallo Non so Guarda lì pure il mio amico che sta lì Il se sta venendo da noi Il giallo più forte Bene, bene A meno che No Eccolo Ah, modalità invisibile Il verde Sta in modalità invisibile Eccolo Eccolo